Test laser da 46 km dimostra che la Terra non è un globo. Non importa quanto sia bella la vostra teoria e non importa quanto siate brillanti, se non corrisponde con l'esperimento, è sbagliata. Fisico Richard Phillips Feynman Il mio sincero saluto a tutti, tutte. Nella descrizione trovate un ulteriore incredibile test laser che oggi voglio condividere con voi. È un test eseguito il 7 luglio 2024 da Simon e Dave. Un test sicuramente d'aiuto per tutti i ricercatori della Terra Piana che dimostra ancora una volta che chiunque è in grado di eseguirli anziché rimanere seduti sugli sgabelli limitandosi a commentare su YouTube. Il test è stato fatto sul lago Crawford in Canada ad una distanza esatta di 45,92 km. Durante il test hanno abbassato la fotocamera a soli 15 cm sopra il livello dell'acqua del lago. Secondo il modello del globo, con l'osservazione da un'altezza di 15 cm sopra l'acqua e ad una distanza di 45,92 km, 155,7 metri dovrebbero essere nascosti dalla presunta curvatura terrestre. Il laser era posizionato ad un'altezza dell'acqua di 8,23 metri, pertanto dal punto di osservazione il laser avrebbe dovuto trovarsi dietro la curvatura di 147,47 metri se il globo fosse vero. L'orizzonte sul lago si troverebbe a soli un chilometro e 382 metri. 147 metri che dovrebbero scomparire dietro la curvatura è un'enormità. Sarebbe abbastanza alta per nascondere di oltre 4 metri la torre solaria di Milano che arriva ad un'altezza di 143 metri. Questo lago è definitivamente piano. Non prendo in considerazione che la luce del laser possa curvare e nemmeno che il cono della luce laser aumenta di diametro perché in questo caso non potrebbe comunque superare la curvatura. E non prendo in considerazione qualsiasi altro tentativo di screditare questa semplice prova o rispondere a commenti sterili quali Ma il test va fatto dall'altezza del laser che è sopra l'acqua di 8,23 metri! Proprio non volete aprire gli occhi, meglio la mente. In questo caso la fotocamera dovrebbe essere nascosta dietro a 99,10 metri e l'orizzonte, se vivessimo su un globo, sarebbe visibile fino ad una distanza di poco oltre 10 chilometri. Sul canale YouTube avete a disposizione oltre 27 fantastiche playlist per i vostri approfondimenti fra cui per tematiche come questa Curvatura ed orizzonte e Prospettiva perché non vedo fino in America. Se vi fa piacere, guardate il video in lingua originale di cui trovate il link nella descrizione e non dimenticate che oltre al libro Il Risveglio il primo settembre 2024 è uscito l'ultimo avvincente libro dal titolo Il secolare nuovo ordine del male che non parla di terra piana ma di indottrinamento di credo e di tanti altri metodi con cui hanno spento i nostri sensi naturali ingabbiando i nostri preziosi intuiti di esseri umani per rubarci l'anima Grazie di aver guardato Dino